Luciano Caldore, sole e flamenco! Perché in questa primavera ci auguriamo tanto sole! Eh, così sì sì, sicuramente ci aspettiamo un'estate caldissima, ma calda è anche la nostra musica e caldo è anche la rubrica e lo spazio che sta per arrivare! Sì ragazzi, è il momento vostro, il momento della segreteria. Noi abbiamo lasciato un numero sulla nostra pagina Facebook dove voi dovete chiamarci e interagire con noi per dire quello che vi pare. Sentiamo un po' cosa avete voluto dirci. Grazie per Pasquale, vi ascolto tutti i giorni dalle 19 alle 21, siete spesali. Sa, sentite, volete portare una margherita e una capricciosa Mia Duomo 27, ci dofano caccia vuoti, grazie. Non fate dati perché sto aspettando la ragazza. Ma che stai ballando? Ma sentite, sto tenendo i pizz, ma ora mi faccio scoprire. Vabbè, portate le prezzi. Ma mamma. Portate pure l'altra, non scassavo pure un cos. Portate pure due margherita allora, e la capriccio perché è venuto pure questo mio amico. Va bene, grazie, buonasera. Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo sapere tra le canzoni di Michael Jackson e quella là di Justin Timberley, qualche passata. Mi ricordo questo maggio che avete fatto un'altra sera. Sentite, a me mi piace più il pesce spada che i gamberetti perché il pesce spada si cucina più facile, va bene? Ma date un bacio pure al presidente della Repubblica perché ha fatto tante cose buone per noi dell'Ucraina. Bene, arrivederci, grazie. Gigi, saluta. Saluta. Saluta, saluta. Saluta, saluta, saluta a Tonino con bagni nostri, che vengono in uccello in dall'angolo. Ciao Tonino. Ciao Tonino. Ciao Tonino. Saluta, saluta. Saluta, 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 saluta di riperdere l'amore quella che fa perdere l'amore perdere l'amore ma l'hai perso l'amore margherita allora pure a me mi portate una margherita capricciosa va bene niente più vuoi i panzalotti vabbè ci sentimmo mia moglie sta un po' arracciata arrivederci